Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Allora ragazzi, io ho letto tutti i commenti la scorsa volta sono veramente molto contento che vi sia piaciuta la mia prestazione oggi vorrei portare un gioco nuovo che è tipo un Tetris bravo al quale io gioco spessissimo tra l'altro anche questo che però diciamo ha un upgrade un po' più difficile e diciamo c'è il vento bravo tipo a fogliate l'entura, non so per chi c'è stato e c'è anche la fisica per chi ha fatto lo scientifico allora io sono quello tutto a destra io sono quello tutto a sinistra è andata bene Andrea sta in mezzo, perfetto Andrea sta in mezzo, perfetto allora con importantissimo hai già capito i tasti tu giustamente sei esperto l'unica roba normale che c'è in questo video no, devi dirgli... oh ma perché si sta spostando? eh perché c'è il vento te l'ho detto che non... ma no ma voi siete dei malati totali ma io te l'ho detto dall'inizio l'hai spiegato pure agli altri che cazzo vuoi dalla vita? io però ti difendo e tu non mi capisci vedi che c'è un cattivo in questo quei due sul server non sono... ma no ma io sto cercando di farlo giocare a giochi stimolanti ma mi stai dicendo nemmeno che ci stanno le cose speciali però c'è la cosa... ho la X e metti una cosa speciale vabbè ma quelle sono meccaniche avanzate ma non è giù è per questo che ti dico non è la cosa da far giocare immediatamente sì ma ne parli come se fosse un gioco complicato il cazzo ne so però se cadono io... andate a fare in culo allora il gioco punti? sì sì cioè più che perdi punti tu devi arrivare prima degli altri devi arrivare in cima allora tieni presente quelle cose... il gioco è arrivare in cima eh sì tieni presente queste cose qui X e B B è una cosa che metti contro gli altri X invece ti pro... è una... è tipo un'edera che si aggancia ma se io faccio vedere cosa succede? eeeh... vabbè andate a fare in culo tutti quanti io gioco per me che Dio adesso ti riconosco andate bene a fare in culo a voi e a chi vi vuole aiutare penso di aver pure messo una mezza bestemmia in tutto ciò ah sì no no vedi per esempio adesso qualcuno è stato figlio della merda quanto sta cosa qua chi è che è stato figlio della merda eh? questo sei stato tu non è stato niente di nessuno ma tu ti rendi culo prima diceva no andate a fare in culo io ve l'ho detto dall'inizio che non si poteva giocare a questa porca scrofa perché cagano i pezzi così? perché sono stronzi se premi la B di pomodossola succede una cosa eh già che sto premendo qualcosa in cerchio diglielo in playstation tu giochi su playstation di solito eh? sì ok in cerchio in cerchio diglielo in playstation si cambia niente ah cosa succede? che che è che ci fai arrivare a fare in culo andate ma io sto cadendo eh porca scrofa che va X premi la X fidati di me oh no hai preso la X ma perché non ti fai aiutare? ma non lo sa qual è la X come non sai quello in basso quella con la X sopra ma quella è la playstation che la X sta sotto lui sta giocando su Xbox è uguale è più o meno come comunichi male ma come facciamo a essere morti praticamente porca di quella serellona ma guarda Cristina sì sì vedi vedi chi gioca per sé è Dio per tutti ahah io ho cercato di difenderti ma tu tifi per la parte sbagliata io non lo dico posso dire che io non ho ancora capito cosa sto facendo ma io sono sicuro che tu non abbia capito che cazzo stai facendo ti volevo aiutare questi due tasti sopra questi ti spostano i pezzi rapidamente così ti puoi incastrare dove c'è un buchetto di lato capito? hai capito tutto il bagno? chiarissimo adesso non ho capito vai provo a fare come dici questo è una gran suggerimento vedi una cosa ti ho detto che era buona è giusto no tutto il resto ma tu ti dici premi la X iniziamo iniziamo dal torneo speciale abbiamo messo un anno e mezzo per capirlo noi povero Cristo ma io sto ragionando con una persona che non è deficiente quindi ci stai dando il deficiente vabbè no abbiamo i nostri tempi però se dopo 40 anni io posso che gliela ammettano c'è un gosso no non puoi venire a mettere però piadere in duro comunque fate a fare qualcosa che fanno magari non hai fatto proprio questa gran cosa ma hai rotto comunque i coglioni sì perché voi non sapete il problema no 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 io stavo cercando di darvi la possibilità direte no l'ho aperto a metà l'ho aperto a metà in tutto ciò c'è qualcuno che non riesce quando mettere comunque divertitevi voi con questa roba è un regalo è rotto le palle tu perché cadono e perché c'è la fisica chi è che ha messo i palloncini qua c'è il vento capite il vento e il vento è quello che poi dà più fastidio uso poi dicono che non so usare questo è vero però l'ho usato male io stavo cercando di fare le cose fatte per bene ma non è proprio oggi non ci riesco però secondo me mo casca tutto ma se li metto sopra così l'importante è arrivare sì sì l'importante è arrivare come si arriva però è importante nel tragitto diciamo che più la costruzione è solida sotto meno rischi che poi mi dà comunque una mano a me mi hai dato proprio un aiuto clamoroso in effetti devo dire io mi sono proposto per darvi una mano chi non vi darebbe una mano io sto provando porca di quella a farle venire a caso ma non funziona chi vi ha dato il permesso di dare bolle quello è Andrea che non ha fatto niente oh che palle perfetta la miglia e la prima volta che giochiamo a tre sì oddio io a casa ho giocato con qualche amico in quattro pure con te e Michele abbiamo giocato una volta qua com'è Michele si è divertito un sacco ah Michele si è divertito un sacco perché ok ok ah beh non è che poi vince solo tu eh B premila a B premila a B ma come si fa a prendere quella puttana no ma che culo che culo di merda che hai io non ho ancora capito comunque questo mi sembra parlare noi stiamo facendo un atto di bullismo nei secondi quindi credo che sia questo fondamentalmente ma è giusto che sia no non è giusto io ho cercato di difenderti tu non ti vuoi fare difendere proprio la nota questo ma io che cazzo le so sempre queste esce povero Cristo non ha capito niente fino a mo non è che capirà anche questo vabbè ma io sono un demiurgo che decide no no io non ho nessuno fare il freddo di bullismo sui videogiochi veramente porca miseria qua siamo passibili di denuncia un attimo proprio vabbè ma lui come si incazza la gente senti io credo che allora andrei è molto adattabile cioè nel senso super super io ho fatto molto i coglioni anche io ah ma c'era dall'altro lato il vento ma giustamente vabbè vedi non è sempre uguale no io lo so ci sono arrivato tardi però ma raga secondo me con due cespugli ci vedete meglio che ho sempre mi spia le palle guarda che rottura di coglioni prenditi le palle senti io ah ma io sai che sto contando il vento dall'altro lato quello l'ho detto io però mi hai detto che sto stronzo no no la mia vita è un controllo misunderstanding no ma sono io che ho capito male il vento mica tu che l'hai detto stronzo di questo diciamo che la vita è un enorme misaggio ma facciamo così vediamo che succede ma vi ho fatto un piacere a tutte e due è un pianoforte ho attivato un potere che dovrebbe essere negativo per voi in realtà vi ho fatto un favore a tutte e due ma insomma io ho fatto no è affinabile come ok a me dispiace però c'è la mamma ma adesso no senti io sono sono sfinito tu sai che mi cioè con quel pianoforte hai minato perché è leggermente sfasato e quindi mi sta leggeramente ma guarda mannaggia la putt nooo nennè ma non ce ne sta uno dritto da me no no questo va aiuto comunque sì però a me mi sta vaffanculo non ho capito una volta che faccio una cosa giusta mi è caduto il pianoforte cioè ma non ci credo ok 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 perché io sto dietro un attimino ma io sto guardando schifo ah porca puttana stavo guardando un'altra ma comunque le cose vanno bene no perché io sto applicando la tattica da tipo che tecnica si chiama del consumatore sai quelli compulsivi che ammucchiano la roba però vedo che non paga per il momento ammucchiatore compulsivo che succede? eh io ho fatto una cosa che mi piace comunque eh però c'avevo il quadrato quindi no puttana io se riesco a far salire questa struttura così come sta venendo posso assicurarvi che tempo due anni qui in Italia un milione di posti di lavoro ma non può accadere questa cosa qua la perfetta ok eccola eccola stavo accadendo guarda che culo guardate la mia torre e piangete guarda che culo guarda che culo guarda la mia torre che vada non davanti però sei stato bravo perché no ma qui è normale la torre di così perché tu devi bilanciare il vento quindi devi andare dalla parte opposta rispetto al vento Andrea tu stai capendo il gioco no l'ho capito ma anche contentissimo di fare cagare comunque sono proprio felice io credo che tu uscirai vincitore comunque sì non ti preoccupare qualsiasi cosa succeda però occhio occhio allora comunque ci hai detto prima che tu comunque ogni tanto ti fai una partita a fifa no? sì ci sono delle similitudini tra questo gioco qui tipo i pasti no che si usa il gioco però io ci vedo tanto di spirito calcistico in questo gioco qui comunque io sono convinto che se lo fai a caso prima o poi deve funzionare questa cosa beh per la regola dei grandi numeri guarda io tutte le volte e se vedi che poi io inizio e poi c'è un pezzo che mi caga il cazzo mi fa andare tutto male bravo Andrea quella è la cosa principale così ti ci puoi appoggiare lì oh non me l'avevate insegnata io volevo insegnarti ma tu hai voluto fare il campione hai preso la parte sbagliata di quello sul server io te lo continuo a dire scusa ma io volevo salvarlo in quella puttana io sto cercando di fargli sviluppare un suo stile perché lui è nuovo di questo gioco e qui è importante sviluppare il tuo stile se no sei anonimo quando giochi e questo si rispecchia anche nel modo in cui prepari i moduli prima della partita le entrate sulle caviglie e queste cose qua ma parlando di fan da calcio beh innanzitutto grande gazzetta dello sport non so se possiamo dirlo possiamo dirlo possiamo dirlo se ci pagano a voi no giustamente la grande gazzetta che paghi oh ho vinto ah no non ho vinto in chiara sei lì sei lì allora io devo ringraziare gazzetta dello sport perché loro pubblicavano i dvd di Bear Grylls quando è stato quindi grazie a loro porca puttana tene comunque ho sistemato le cose grazie mi hai fatto un favore no ne perché inizia a esserci una logica inizia a esserci ma sono in vantaggio io me lo confermate guarda che strano da dire però si sei assolutamente in vantaggio tu allora io penso che ho paura di confermartelo no ma però perché madonna se ho fatto la cazzata madonna mo devo risalire proprio di violenza adesso guardate che siamo molto concentrati non so se ve ne accorgete però no no è proprio una questione di perché andrei in vantaggio la puttana no ma qua ho fatto una cazzata di quelle epiche però epiche finite male non mi riprenderò mai più da sta cazzata io devo to no no ok 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 va bene comunque se sia la grande ecco qui lo metto a l'isola e kai ma in quel pezzo porca madonna è caduto tutto sono contento sta per vedere tutto dovresti fare non cadrà non cadrà tieni tieni ti regalo questo va bene va bene anche quello poi senti mi sono tolto un pezzo no no gelusalemme ma è va sì due e uno e a tappeto madonna ragazzi vedi ti sei scelta la parte sbagliata sì ma io continuo a dirti sai che tu mi stai dando dei grossi consigli nell'angolo di destra abbiamo l'allenatore palmieri che dice non perdere oh è una tattica anche quella di non perdere allora mo questa ti manda a casa tutti vai però posso dire che lui sta diventando sempre più competitivo man mano che passa guardami noi ci giochiamo giusto da tre anni in maniera molto discontinua non mi farai vergognare io ma i pezzi minimo di vergogno mister i pezzi quelli che diciamo sono imbarazzanti è meglio buttarli giù o togliere dei pezzi in questa fase in questa modalità di gioco si buttali perché non ti dà problema ah vedi questa era una cosa che non mi avevi detto ma guarda io ti do un pezzo questo qua è fondamentale per la tecnica per rompere il cazzo è vero è fondamentale per rompere il cazzo proprio è bello bello perché il ghiaccio scivola i coglioni è una merda eh lo so però bravo adesso devo anche insegnarti le tecniche buie no quelle che perché dopo il buio c'è la luce ora i prossimi minuti noi li passeremo a eliminare questi pezzi di ghiaccio che ha messo Nicola e che rompono i coglioni però lui si sta muovendo pericolosamente verso l'alto bisogna recuperare sentite raga non volevo farlo però è meglio se non ci vedete un cazzo porca troia però l'ho fatto salire un botto cazzo io sto salendo però devo fare la tecnica del bruco no perché perché c'hai la X usa la X bravo mi è piaciuto Andrea che è esasperato da questa X che ormai è leggendaria guarda in basso e scopre dov'è beh comunque funziona vedi che è riuscito a salire marca di quella puttana non si vede niente ho quattro cespugli di merda non mi hanno mai dato fastidio no come l'ho messa male eh cespuglio a volte c'è a volte non c'è ma lì c'è la destina no 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 madonna madonna che mestiere umiliante che ha fatto la madonna ok ok ci siamo ci siamo mi sono sistemato io non so che devo fare sto scendendo tutte le volte da sta cosa proviamo ok ho cementato la mia amicizia con quei pezzi ma guarda Cristina D'Avena vaffanculo ma perché tu la conosci Cristina D'Avena? sì personalmente? sì ci facciamo una chiamata con Cristina D'Avena? no oggi se fate cadere tutto la chiamo guarda è già successo quindi però non la sento tipo da un capodanno eh ah ok hai finito da rompere i coglioni oggi mi sento proprio in forma perché noi usiamo Cristina D'Avena cioè io per lo più come esclamazione no ci vediamo al prossimo gameplay noi non siamo tipi da rompere i coglioni alla gente no ragazzi tra l'altro posso dire una cosa scusate io ho questo canale di gameplay anch'io come voi sapete se lo potete mettere in descrizione te lo mettiamo gioca dei giochi un po' particolari non così pop come fanno voi ok il suo canale lo trovate si chiama tira più un pelo di fifa esatto che è uno non si dice